Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video un bello, o meglio un bello, o meglio un nuovo vlog, sono in camera mia come vedete è diventata Lilla lo so, qua vedete ma è diventata Lilla questa è una nuova postazione piccolo spoiler come ho detto nel primo vlog che ho fatto, sto cercando di capire quale programma installare per il montaggio forse ne ho trovato uno forse dico forse perché sono alla ricerca del programma adatto ok, questo è sparito di qua ok adatto, sto cercando di capire qual è speriamo di farcela e quindi quando vedete questi video vlog nella mia disperazione di trovare un programma adatto per fare i video avrò già caricato e editato tutti i video che devo caricare speriamo di farcela a dopo ok ragazzi forse forse sono riuscita a a trovare il programma adatto adesso proviamo a salvarlo e poi a caricarlo vediamo a dopo vedete qual è il problema quando carico il video mi dice che ho caricato un file non è un file video ho caricato un'immagine non è un file video non è vero perché ho caricato solo il file video e non so perché mi dica così boh adesso riprovo vi ho anche appena per caricato un video su youtube perché vi scusa di ritardo vi ho spiegato il motivo quindi oggi 5 ottobre è andato online un video di scuse e ora vedremo quando uscirà sto benedetto video che sono stanca tra un po' butto fuori tutto si l'ho dato Gesù Cristo sto caricando il video di look fantastic adesso vedremo quanto tempo ci metterà a caricare ci vediamo dopo ciao ciao ragazzi non ci credo guardate cosa mi sta dicendo io non so più cosa fare veramente mi sta dando problemi non so più cosa fare io ci rinuncio oggi guardate rinuncio totale non so più cosa fare non so più dove guardare sono in crisi totale quindi aspetto vedrò cercherò ancora e poi vi aggiornerò ragazzi sono in macchina che sto andando fare un po' di spesa e col programma non sono riuscita più a trovare un altro quindi cercherò di capire come fare e mi piaceremo dopo ok io sono prontata per andare al corso benessere io voglio spiegare cos'è ho questa felpetta della Lidl mi piace un casino questa maglietta presa tanto tampone ma il colpio dove questi leggings semplici nei e queste andiamo se riesco a far vedere queste scarpe che ho fatto vedere due di acquisti spero che uscirà presto ci vediamo dopo ok ragazzi vi do la buona testo di letto dei miei da questa posizione molto strana e perché non so da dover e quindi comunque mi ama oggi io vi mando un bacione ci vediamo al prossimo vlog e sperando di riuscire a volare tutto online più presto possibile siamo al 5 di ottobre e ho tanti video da mandare online e non riesco a fare niente perché youtube non collabora quindi un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao